ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo video della skyblocks è l'ultimo il penultimo perché ho visto che comunque ormai mi manca veramente poco quindi ok allora eravamo qui nel frattempo io ho farmato nel nether un casino di oro e infatti sono morto ancora una volta poi ho ucciso dei phantom stando svegliato è stato abbastanza difficile mi sono creato ancora un po di colorante ho creatato un po di ferro dallo spawner creatato un po di roba qui intanto ci sono dei cactus vediamo ok questo che così li prendiamo tutte questo altro da 3 questi qua devono ancora crescere buono perfetto allora adesso questo mettiamo qua siamo 24 queste siamo a 13 quando abbiamo altri due lingotti di ferro che andiamo a mettere qua su insieme a questi altri perché ci serviranno e praticamente non sbaglio dove mi faccio un attimo della lana della lana e con la lana mi faccio il tappettino quello per passare sulle staccionate questi qua no ok che andiamo a metterlo qua che così mi accomodo potrebbe essere qui e qui siamo sì perfetto quindi adesso cosa facciamo mettiamo dentro agli animali che ho già preparato tutte le spawner qua in fila poi ne faremo altre sicuramente mettiamo tutti insieme perché così ok il pig la pecora bruna va bene e la vacchetta vabbè allora facciamo così andiamo al ricettario e vediamo se non sbaglio posso farmi intanto qua posso farmi una zucca se non vado a perderla ok andiamo al ricettario e se non sbaglio ho tutto il materiale per poter craftarmi una nether star un elitra se non sbaglio un elitra e dei diamanti e con questo ci buttiamo già tanto avanti formato veramente un caso successo è stato nel nether un botto di tempo in modo spuna sono tanti pigmen l'ho colpito uno e ho fatto un sistema poi ve lo faccio vedere che praticamente a loro arrivano tutti di sua pedana ci sono delle botole e loro con le botole non possono passare e io li chillo da lì allora adesso dobbiamo vedere di centrare buco ci vado sempre a pelo per altri scopo scoperto che posso saltarlo via così siamo arrivati qui allora i diamanti poi la 2 litra e 3 litra eccola qui e la nether star quindi abbiamo adesso le ricette che ci servono controlliamo se abbiamo queste sì perfetto ora vediamo nether star ci serve il quarzo un blocco d'oro dei diamanti quindi prima il diamante selge iron ingot mi viene il dubbio che non abbiamo abbastanza no mi sa che mi sa che abbiamo poche iron ingot colorante e la selge allora abbiamo selge in mezzo ai lati selge in mezzo ai lati qui questo poi le 2 iron ingot facciamo questo facciamo 4 2 e vabbè 8 e non ce lo da perchè perchè non ce lo da colorante azzurra questo non capisco mica flinta quella blue die gold ingot ah ok insomma vabbè mi saranno i lingotti scusate ok ora dovrei riuscire ok perfetto allora 1 2 3 4 ok e qua ci craftiamo 2 diamanti poi e così abbiamo perchè ora craft ok si il lingotto poi adesso le litri ci siamo string fanto membrana di phantom sotto pelle e anetastar quindi anetastar blocco d'oro porca miseria sarà un problema un blocco d'oro poi abbiamo poi abbiamo tanto dormiamo e anetastar blocco d'oro in mezzo il quarzo del nether ai lati e 4 diamanti ci sarò porca miseria e 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 i e e e e e quattro stella del nether fatta e abbiamo fatto anche fare una stella del nether quindi probabilmente se non sbaglio per la testa ne serviva un'altra però va bene adesso craftiamo l'elitra cioè ci manca veramente poco ci serve una stringa ci serve della pelle della pelle facciamo subito ok mentre guardo il ricettario si fa le idra nether star in mezzo membrana di phantom agli angoli e la pelle ai lati e la stringa lì sopra perfetto allora nether star i due con il cuore la stringa sopra e le membrane di phantom le ho dimenticate quindi ricominciamo e e stringa sopra membrane di phantom agli angoli in mezzo uno e due e ora abbiamo anche l'elitra fantastico possiamo pure salvarci e quindi dovremo craftarci anche dei razzetti che per adesso non possiamo perché ci serve la carta ma lo farò avanti quindi questa la mettiamo qui in salvo un attimo il ricettacolo di nuovo che volevo intanto aspettate che andiamo a svuotare questa quindi se a me vedesse non era allora trucchete trucchete e trucchete e il libro enchantment table compiuto e se non sbaglio mi serviva da fare qualcosa con l'enchantment table o no no l'episodio finisce qua e io vi ricordo di iscrivervi commentare lasciare dei like condividere a tutti seguitemi su instagram per ulteriori aggiornamenti e niente io vi lascio salute elettrizzate ciao ciao